A Rego Sacchi a Caldarola per presentare il suo libro, la Coppa degli Immortali, la leggenda delle Milan e la squadra migliore delle pianeta. Che cosa significa per lei, Sindaco Giuseppetti, avere nel suo paese a Rego Sacchi? A parte che è stata un'emozione perché non potevo pensare di portare a Caldarola un personaggio del calibro di Arrigo Sacchi. Poi io sono milanista quindi è tanto meglio e mi è fatto molto piacere. L'abbiamo concordato anche con il Sindaco di Fusignano perché dobbiamo ricordare che Sacchi è nato di Fusignano. Questa amicizia che è venuta fuori con il terremoto, con questo comune, con il Sindaco, con Nicola Pasi e con i cittadini di Fusignano ci ha permesso appunto alla fine anche oltre di averci alcune cose prima quindi durante questi tre anni anche averci la presenza qui di Arrigo Sacchi. È stato un momento particolare anche perché siamo stati sul centro storico, abbiamo visto la situazione del paese e lui si è reso conto anche delle difficoltà che abbiamo e nello stesso tempo anche del dramma che stiamo subendo però lui ha una mentalità e un qualcosa che ti trascina e dice sempre che con il lavoro alla fine paga l'entusiasmo, la correttezza, il rispetto, la passione alla fine faranno sì che Caldarola diventerà più bella ancora di quello che era prima e è logico che automaticamente ci sono i tempi. I tempi anche lui si è reso conto che sono passati tre anni e non sono pochi e visto il dramma che abbiamo c'è bisogno del suo ottimismo. Io perlomeno questa serata la ricordo come una serata che mi ha riempito di entusiasmo e di ottimismo perché a volte durante i giorni non è sempre detto che l'attenzione che ti si crea ti porti sempre a ragionare con l'ottimismo e con l'entusiasmo. Oggi è stata una ricarica per ripartire ancora più con entusiasmo e con voglia da domani mattina. Il sindaco di Fusignano, diciamo anche l'artefice della presenza di Arrigo Sacchi a Caldarola ma soprattutto la solidarietà di Fusignano per Caldarola dopo il terremoto e lei ha detto ha fatto bene alla mia comunità. Sì, credo che in questa occasione la comunità si è unita per aiutare una comunità che non conoscevano e che poi hanno avuto occasione di incontrare in diverse occasioni. Ha creato unità tra le tante associazioni che hanno lavorato insieme e questo diciamo ci ha fatto bene. Tra l'altro quando sono venuto qui oggi tante associazioni mi hanno chiesto di portare il saluto o di una comunità che hanno conosciuto e che ci tengono ad aiutare anche quando i riflettori sono accesi da altre parti. Spesso i terremoti portano un momento di aiuto poi è difficile mantenere nel tempo. Essere qui oggi mi dà la grande soddisfazione di poter essere qui anche quando le tv parlano di altre cose. E a parte questo che cosa significa per lei sindaco avere un cittadino come Arrigo Sacchi? Penso che sia una cosa straordinaria. Come ho detto Arrigo non ha soltanto insegnato il calcio penso che abbia attraverso questo insegnato a guardare al futuro. La comunità di Fusignano l'ha sempre fatto e questo penso che abbia anche aiutato Arrigo Sacchi ad essere se stesso. Averlo ovviamente a Fusignano ci aiuta a guardare quel futuro che forse è più fatica a vedere oggi che un tempo ma noi lo stiamo facendo con grande capabilità e Arrigo è su questo e c'è sempre di grande aiuto.